ecco non capisco come si possa pensare di avere dei diritti sul proprio o sulla propria ex a cosa mi riferisco sto guardando una serie tv non vi dico quale perché non voglio spoilerare nessun nessun aspetto della trama una serie che mi piace moltissimo vabbè comunque in questa serie di cui non vi dico il titolo a un certo punto una ragazza si innamora dell'ex della sua amica però sia lui che lei si sentono in colpa perché si sentono in dovere di dover quasi chiedere il permesso alla ex perché altrimenti lei ci rimane male e io lo guardo ed è uno show che mi piace molto una serie anche molto intelligente scritta benissimo con una sceneggiatura molto molto bello però questa cosa qua io non veramente non la capisco cioè tu stai con una persona vi lasciate e finisce lì non è che se la mia amica si vuol mettere col mio ex deve chiedere il permesso a me o deve sentirsi in colpa nei miei confronti ma che è sta storia qua ed è una cosa che trovo spesso sia nei film che nelle serie che anche nei racconti ed è una cosa che proprio non riesco a spiegare a capire in base a quale criterio cioè se a me ancora mi devi chiedere il permesso è perché ancora a me me ne frega qualcosa non lo so ma tutto questo discorso di chiedere il permesso agli altri per mettersi con qualcuno per poter mostrare i sentimenti a qualcuno come se le persone fossero degli oggetti che appartengono a qualcuno è una cosa che da quando l'ho vista ieri sera continuo a rimuginarci sopra e a riflettere com'è che una serie così intelligente poi dove anche i personaggi sono ben descritti ben delimità delineati eccetera e proprio fa queste cose qua vabbè se poi vi chiedete ma è la l'amica come come ha reagito gli ha detto sì mettiti pure col mio ex me ne frega niente no gli ha detto no in questo momento ho altre cose per la testa perché aveva altre cose per la testa non posso non posso gestirmi in una situazione del genere non parliamone adesso parliamone più avanti quindi ancora dando ancora più peso al fatto che lei abbia voce in capitolo perché la sua amica si vuole mettere col suo ex no sono proprio cose che non riesco a capire non riesco a gestire non riesco a gestire non riesco a spiegare vabbè no volevo condividere con voi questo mio stato di frustrazione perché da quando l'ho visto ieri continuo a pensarci quando l'ho visto ieri notte era notte tarda era il terzo episodio che guardavo di seguito devo smetterla di fare certe cose che la mattina non riesco ad alzarmi poi non mi rimane più niente da guardare sono tutte finite le serie belle che mi piacciono sono la disperata ricerca di nuove serie suggeritemene qualcuna